Allarme e siccità, a rischio il comparto agricolo. Attesa per un tavolo regionale che potrebbe sbloccare la situazione, intanto la regione Piemonte ha stanziato 56 milioni per l'agricoltura. Il presidente del consorzio di bonifica della baraggia biellese-vercellese, Leonardo Gili, non nasconde la sua preoccupazione. È una situazione drammatica, spiega. L'auspicio è che inizia a piovere o ci troveremo in serie difficoltà. Se il 2022 è stato un anno nero per l'agricoltura, il 2023 potrebbe essere ancora peggio. L'anno scorso l'assenza di precipitazioni ha messo in ginocchio le culture, ma all'epoca le dighe avevano una quantità d'acqua tale da poter garantire sia l'uso potabile che l'apertura dell'irrigazione. Ad oggi le dighe sono vuote. Si devono preoccupare solo i risicoltori o anche noi? In prima linea sicuramente c'è il discorso dell'agricoltura, perché qua nel Piemonte abbiamo spesso volentieri bisogno di tanta acqua, come dicevi all'inizio, per quanto riguarda la coltivazione del riso. Se la situazione non dovesse cambiare, ci saranno nuovamente delle situazioni preoccupanti anche per gli abitanti della zona, perché comunque è una crisi idrica che perdura ormai da tanti mesi. Ci sono dei precedenti, degli storici che a tu risulta come meteorologo, di una siccità così importante in primavera? Sicuramente abbiamo avuto delle situazioni di siccità che hanno preoccupato spesso volentieri tutto il Piemonte, quindi non solo la zona del Biellese. In passato si sono registrate delle situazioni simili, ma quella che stiamo vivendo in questi ultimi mesi è sicuramente una delle più drammatiche. Tante anomalie anche nel senso del vento? Sì, quello che sta avvenendo in questi minuti, in queste ore, è un cambiamento radicale del tempo, con clima primaverile qua in pianura e in tutto il Piemonte stiamo registrando delle temperature sopra medie anche di 10-12 gradi, grazie al vento di Favogno che sta iniziando a soffiare dalle Alpi verso la pianura per questo sbalzo, questa differenza di pressione che c'è tra l'arco alpino, la parte nord dell'arco alpino e la pianura padana. Quindi nelle prossime ore avremo delle belle raffiche di vento che soffieranno anche a 50-60 km orari, proprio seccheranno purtroppo ulteriormente ancora il terreno, quindi sarà veramente un ulteriore aggravarsi di questo periodo siccitoso. Si intravede una via d'uscita? Ad oggi abbiamo qualche perturbazione, debole perturbazione per la metà del mese di marzo, che è di origine atlantica, però nonostante ciò comunque non sarà sufficiente il risanamento di questo debito che abbiamo verso la siccità, perché comunque mancano veramente le precipitazioni, quelle importanti, quelle che il biellese, come questa zona, era abituato a vedere in maniera consistente nel periodo autunnale, soprattutto il primaverile, dove pioveva praticamente quasi tutti i giorni.